È iniziato il Contro alla Rovescia per l'edizione 2022 a numero 24 della Fabbrica di Carta, in programma dal 22 aprile al 1 maggio a Villa Dossola. Annunciato il tema di quest'anno, Pagine di benessere. All'interno del percorso espositivo proporremo dunque, spiegano gli organizzatori, un'ampia selezione di titoli che attingono dal mondo della psicoterapia, del benessere personale, della crescita interiore, dell'ambiente e del contatto con la natura. Non mancherà naturalmente il cuore della nostra proposta editoriale, legata ad autori, storie e tradizioni del verbano Cuse-Ossola. Gli ingredienti della Fabbrica di Carta, uno degli eventi culturali più amati dell'intera provincia, sono infatti un perfetto mistra editoria locale e nazionale, insieme alle numerose presentazioni con gli autori e agli eventi collaterali che attirano ogni anno un folto pubblico di lettori appassionati. Uno spazio rilevante sarà dedicato agli editori locali, che proporanno le loro novità più interessanti, e agli editori piemontesi, la cui presenza si rivela ogni anno molto apprezzata. Anche l'accesso a questa edizione del Salone del Libro sarà organizzato con il collaudato percorso a senso unico inaugurato nel 2021, e le dirette Facebook permetteranno di assistere anche in remoto agli incontri con gli autori. Confermato pure l'allestimento della consueta mostra fotografica, quest'anno curata dal gruppo fotografico solano La Cinefoto, dal titolo Bellezze nascoste o da riscoprire dal DCO. Il taglio del nastro è fissato per venerdì 22 aprile alle 20.30. Ospite di questa e la prima serata sarà lo scrittore Michele Marziani, che presenterà il suo nuovo libro La Cura dello Stupore, appunti sull'arte di Cavarsela e star bene con se stessi. Il Salone del Libro degli Autori ed editori del Berbano Cusio Ossola è organizzato dall'Associazione Libriamoci, editori e librari del DCO, e realizzato con il supporto della provincia, con il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Distretto turistico e Comune di Viradossola, e con il contributo di Unione Montana, Alta Osola e Divinaville. Per informazioni, calendario, eventi e aggiornamenti, www.fabbricadicarta.it